E per questo ho dato quei titoli, scusate se erano in inglese perché questo video è nato in America quando mi è stato dato il premio alla carriera dall'American Society of Cinematographer e Francis Coppola me l'ha conferito, per cui poi è rimasto col titolo inglese. Io, onestamente, dopo tanti anni di studi, eccetera, in un modo credo non consapevole, ho cominciato con un certo tipo di ricerche, studi, su un certo percorso molto semplice, dall'ombra alla luce, e poi tutto questo è stato un pochino accostato ad un certo tipo di regista, come Bernardo Bertolucci, e poi mi sono interessato a quello che è il percorso alla psicologia, alla fisiologia dei colori, perché mi sembrava che dovevo conoscere i significati di quello che stavo facendo nel Conformista o in Apocalypse Now, eccetera, e poi ho sentito il bisogno di capire cos'era il rapporto tra gli elementi della vita sulla filosofia greca, e ogni volta che c'era un tempo mi fermavo, tornavo a studiare, tornavo a ricercare, trovavo importante approfondire la conoscenza, poi ho cercato di capire cosa sono queste ispirazioni creative che Platone chiamava le muse, e chi sono questi signori, che poi in realtà siamo tutti, i visionari, quelli che vedono oltre, al di là, diciamo, di quello che è di fronte a noi. Io penso che questo tipo di struttura è esattamente la struttura della mia vita. Io, se ho proprio la forza, non credo di aver completato le mie ricerche, i miei studi, spero di poterlo fare in una seconda teologia di libri, e ho capito una cosa che mi sembra molto bella, che questo accade in ogni mestiere, io parlo della mia professione, che ogni volta, in ogni progetto, si torna a studenze. Cioè, il fatto di essere un eterno studente mi piace moltissimo, perché c'è sempre da conoscere. Grazie Vittorio, noi ci conosciamo ormai da una vita, lasciatevi fare una parentesi personale, io ho una piccola ragione, come dire, quasi di commozione, anche sentimentale, a ritrovarmi qui con Vittorio Storaro, perché ci siamo conosciuti quasi 40 anni fa, io andai a tervistarlo giovanissimo per una rivista, allora trimestrale, che si chiamava Cina nel cinema, allora esistevano in trimestrale, non c'erano quelle riviste di cinema, non uscivano ogni tanto, non potevano fare dei volumetti, che fece un numero su Apocalypse Now, quindi era il 79-80, quegli anni di prima vita fa, e credo che sia stata una delle due prime, se non la prima, non voglio dire, una delle due primissime interviste. E insomma, quella che allora era un lavoro per specialisti, per appassionati, per cinefili, poi insomma, oggi invece Vittorio è veramente, lo so, è una star, perché si può usare questo termine nel suo caso, ma è forse l'unico direttore della fotografia, pardon, scusami, adesso mi caccia dal palco, l'unico autore della fotografia, ci tiene giustamente, è definito in inglese cinematographer, in italiano possiamo tradurre autore della fotografia, anche se nel uso corrente, si continua a dire direttore della fotografia, l'unico che ha acquisito appunto uno status veramente di autore riconosciuto a livello mondiale, non solo perché ha vinto i famosi tre Oscar con Rezzi, con Apocalypse Now, prima di tutto con Coppola, poi con Rezzi, con Morribitti, e poi giustamente, finalmente, con Bertolucci dell'ultimo imperatore, ma perché ha veramente formato e segnato generazioni appunto di cinematografi, di autori della fotografia, ovunque nel mondo, e per primo in America, ora che un autore della fotografia italiano abbia, avesse un'influenza così profonda su Cina americana, negli anni 70 e poi 80, vabbè, non era affatto scontato, il conformista era, che avete visto questa mattina, è un film che ha avuto un'influenza oggi inimmaginabile, sconvolgente, insomma, è diventato un libro di testo veramente, per registi, scenografi e autori della fotografia, che studiavano appunto, insomma, è un film che cambiò tutto, il modo di raccontare il fascismo e il modo di raccontare anche più in generale il passato, di ricostruire un rapporto con una memoria ancora recente, ma ormai lontana, reinventandola e trovando appunto le luci, i tagli, i colori, per cambiare completamente, insomma, il nostro rapporto con una memoria che invece si era, si è diventata l'immagine un po' fisse che andava, bisognava dare una scrollata, insomma, se voi rileggete l'intervista di grandi registi, autori della fotografia dell'epoca, insomma, vedrete che il conformista è citatissimo, io che andando così su internet, cercando qualcosa che non conoscevo, ho trovato un certo John Bailey, grandissima storia della fotografia, un signore che ha lavorato con Robert Redford, con Boris Calda, con Paul Schrader, che dice, non mangio, il film che ha cambiato la mia vita è stato il conformista, è perché ho visto il conformista che ho deciso di concentrarmi su questo me stesso, sono cose oggi difficili da immaginare, ma allora era così, il nostro cinema viaggiava moltissimo e molto, influenzava in profondità appunto quello che sarebbe rimasto la prima cinematografia del mondo.